Una banca comunità, una banca perfettamente incarnata nel territorio in cui opera, una banca capace di ascoltare i propri soci, di dar loro suggerimenti preziosi e di offrire risultati economici lusinghieri e rassicuranti che vanno a braccetto col costante e concreto impegno nel sociale. La Banca Popolare Pugliese conferma la sua mission. Nessun proclama, sia chiaro, ma la consapevolezza di giocare un ruolo importante, in particolare nel tessuto socio-economico pugliese Salentino. Presidente, una banca territoriale di fatto incide proprio sulla comunità nella quale risiede. Secondo lei qual è il valore aggiunto della Banca Popolare Pugliese? Questo concetto che lei ha espresso è dimostrato plasticamente, evidentemente, da riunioni come quelle di oggi, in cui la banca e per essa gli esponenti, i dipendenti incontrano i soci. Quindi è questo rapporto diretto che si crea. È lo stesso tipo di rapporto che poi connota anche i rapporti con la clientela, cioè una banca di territorio e una banca che è più vicina al cliente. Sala gremita all'hotel Tiziano di Lecce per l'assemblea ordinaria 2023 dei soci della Banca Popolare Pugliese, durante la quale è stato approvato il dividendo per il 2022, quest'anno fissato in 10 centesimi di euro per azione. È un segnale, a nostro avviso, importante dello stato di salute della banca. Tra l'altro in questi periodi di uscire a distribuire dei dividendi anche sostanziosi, occorre passare dal filtro dell'organo di vigilanza e per il socio è un motivo di partecipazione anche più tangibile alla vita della banca. Risultati economici ragguardevoli per l'Istituto di Credio di Parabita che può vantare 101 filiari in Puglia, Basilicata, Campania, Morise e Abruzzo e vuol diventare un punto di riferimento per il mondo economico del mezzogiorno. La prospettiva è quella di restare vicini al territorio con un modello di banca ancora più efficiente, laddove possibile più snella per cercare di essere al servizio della nostra clientela in maniera ancora migliore rispetto al passato. Una banca che guarda avanti e premia il talento. Sono 48 i vincitori delle borse di studio che la banca ha messo a disposizione a favore dei soci o di loro figli per un importo totale pari a 50.000 euro. L'iniziativa ha riscosso molto successo, a giudicare anche dal numero delle domande che sono pervenute, che ci hanno costretti per forza di cose a fare una selezione e questo è un piccolo motivo di rammarico perché di giovani che avremmo potuto premiare, ce ne sono tanti, a riprova del fatto che di giovani che si impegnano nello studio e che conseguono risultati brillanti. Per fortuna nostra, di tutta la società, di tutto il Salento, ce ne sono tanti.